Non era sicuramente nei miei piani sposarmi così giovane, però penso che con Nick non sarebbe cambiato niente. Sarei stata comunque con lui per tantissimi anni, quindi mi sono detta perché non adesso. C'è molta gente che pensa prima alla carriera, dice ma tu sei giovane, devi pensare alla carriera, questo, quell'altro. Io se non mi fossi sposata a Nick e me lo fossi lasciata scappare, penso sarebbe stato il rimorso più grande della mia vita perché io prima dicevo che ero come il galbanino, come me non c'è nessuno. Invece passo il testimone a Nick, come il galbanino e come lui non c'è nessuno. Era Nick, doveva andare così, infatti era lui. Mi sembra veramente di stare con il mio migliore amico per tutta la vita e pagherei proprio per poter stare con i miei migliori amici tutta la vita. Grazie a tutti.